A stravinto X-Factor ha conquistato un disco d'oro in appena una settimana grazie al suo inedito The Reason Why e ora è pronto per la sua prima esperienza a Sanremese. È decisamente un periodo magico per il catanese Lorenzo Fragola, 19 anni e tanta voglia di scrivere. Eppure non tutto è sempre andato nel verso giusto. Lorenzo ha infatti confessato che già l'anno scorso tentò di partecipare al talent, venendo però eliminato al primo provino. L'anno scorso mi ricordo che sono arrivato e stavo tremando, avevo proprio paura. E quindi probabilmente il fatto di non essere pronto è stato il grande problema. Cioè trovarsi a sentire la propria voce, la propria musica davanti a delle persone, se non si è abituati a farlo è un impatto molto forte. Quindi credo che quello sia stato l'anno scorso. Sì, mi ricordo che ovviamente la delusione c'è, ma perché? Però poi infatti mi sono rischitto perché sarebbe stato troppo facile, diciamo, avere un ostacolo e poi tornare a essere indietro. Quindi quantomeno avrei dovuto riprovarci, poi è andata bene. Ci sono molti i provinti di arrivare in quanto sei stato facciato? A primo? A me? Sì, sì. No, no, mi hanno visto già, hanno detto ciao. Sto a un vicino. Lorenzo sostiene però ironicamente di aver rimosso il trauma e come potrebbe essere altrimenti, considerando che, come annunciato da Carlo Conti in diretta all'Arena, il cantautore sarà uno dei big della 65esima edizione del Festival di Sanremo. Per il conduttore toscano non si poteva lasciare dietro le quinte un artista esordiente che in meno di una settimana è riuscito a vendere 25.000 copie. E non è possibile neanche sorvolare sul già nutrito numero di fan che Lorenzo vanta, anche se il ragazzo non sembra proprio entusiasta di essere definito un teen idol. Sì, finché non mi considero io un teen idol va bene, quindi l'importante è che non sia solo quello, questa è la cosa che mi prende.